In vista delle elezioni comunali a Capaccio Pestum, dopo la sfiducia all'ex sindaco Franco Palumbo tra le candidate Rosa, sindaco del comune capaccese via Nappo Genoveffa, conosciuta come Jenny, attualmente impiegata in un grosso gruppo bancario, detiene il grado di direttore di filiale. La candidata, nata a Battipaglia e laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Salerno, si sta specializzando in consulenza e gestione delle imprese. Faccio appello ai giovani, ai professionisti, a tutti i cittadini che hanno a cuore il futuro del proprio paese a non restare immobili davanti a questa situazione, queste le sue parole, in un paese dove si potrebbe vivere dignitosamente di turismo, agricoltura e servizi, seguendo una semplice e normale amministrazione si applica la farginosa burocrazia all'italiana. Non aditando nessuna figura politica o dirigenziale in particolare, sembra che l'uso di questa pratica sia terreno fertile per clientelismo ed intimidazione. Sottolinea, è normale che il cittadino si appenda a quel filo di speranza fornito dalle promesse in campagna elettorale, ma la realtà, seppur cruda, è diversa da tutto ciò. La gestione di un ente locale è simile ad un'azienda che ha necessità di produrre profitti, dove nel caso specifico detti profitti sono identificati come servizi al cittadino. Possiamo ospicare alla creazione di nuovi posti di lavoro, alla pulizia delle strade, assistenza a persone indigenti, alla creazione di spazi e luoghi ludico-ricreativi. Sperare, sì, perché senza aver ben chiaro l'andamento reale dei conti pubblici, ogni promessa, ogni speranza è campata in aria e per l'amministrazione di un ente pubblico ci vuole una squadra qualificata, un team di persone che con la loro esperienza e conoscenza trovino soluzioni semplificate per ottenere il miglior risultato con il minimo investimento. E conclude, ecco il perché della mia decisione di scendere in campo per il bene dei vostri figli, dei miei figli, nella speranza di confrontarmi con persone che condividano la mia stessa visione nella gestione futuristica della nostra città di Capaccio Pestum.